Battaglia giudiziaria senza fine tra le imprese che stanno realizzando il Crescent, Rainone, Ritonnaro e Favellato, l'edificio semi-circolare, progettato da Bofil, destinato a delimitare Piazza della Libertà Salerno ed Italia Nostra, ormai vissuto anche a colpi di note e comunicati stampa, oltre che ricorsi e distanze al Consiglio di Stato. Ieri pomeriggio i legali della Crescent SRL, in particolare l'avvocato Lorenzo Lentini, avevano comunicato che il Presidente del Consiglio di Stato, con decreto 3003, aveva respinto l'istanza di revoca proposta da Italia Nostra contro l'ordinanza 2811, confermando il via libera alla prosecuzione dei lavori di realizzazione dell'edificio. Una decisione che, secondo la nota, rappresenterebbe un ulteriore tassello per il completamento del programma costruttivo del Crescent, in attesa dell'udienza di merito del prossimo 23 ottobre, attesa con rinomata fiducia. Questa mattina però l'Associazione Ambientalista è tornata alla carica, sostenendo che l'istanza di revoca non sarebbe stata respinta, ma che, al contrario, dovrà essere esaminata dal collegio all'udienza del prossimo 11 settembre e che la decisione di ieri era legata esclusivamente alla richiesta di un provvedimento monocratico. Immediata la controreplica dei legali del Crescent, secondo i quali la situazione sarebbe in maniera differente e che l'udienza rientrerebbe, per così dire, nella prassi. Gli avvocati dell'Associazione di Imprese hanno anche sottolineato come nel decreto pronunciato ieri dal Presidente del Consiglio di Stato, ci sarebbero precise indicazioni in tal senso ed in particolare che, considerato che, a prescindere dalla questione di ammissibilità dell'istanza di revoca, da un primo esame non sussistono i presupposti per il rilascio della misura cautelare, cioè il blocco dei lavori, tenuto anche conto delle limitazioni imposte all'intervento edilizio dall'ordinanza numero 2811, interventi soltanto al di sotto del livello della attuale Piazza della Libertà. Per questo motivo il Presidente ha respinto, fissando per la discussione, la Camera di Consiglio dell'11 settembre. Poco più di un mese prima, tra l'altro, rispetto al 23 ottobre, quando lo stesso Consiglio di Stato dovrà entrare nel merito del ricorso d'Italia Nostra contro un permesso a costruire che il 6 giugno aveva portato ad una sospensione temporanea e parziale dei lavori nei settori dal 2 al 5 del cantiere. I lavori per adesso proseguono.